aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa crà 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 ciao a tutti ragazzi io mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys oggi vi faccio vedere The Epic Animals Mega Rane è una collezione di 16 rane e cominciamo subito ad aprirle guardate all'interno di ogni bustina trovate ovviamente la ranocchia e un magazine è la rana dal dardo velenoso a tre righe poi apriamo quest'altra bustina mamma mia che cosa c'è dentro pallini strunissimi e sono quelle mega stralunghissime che si allungano a tutto andare ragazzi questa è la rana di vetro apriamo quest'altra vediamo un po' vediamo un po' che cos'è mamma mia è la rana più guardate si vedono i pallini all'interno vediamo chi è allora 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 eccola rana pomodoro voi lo sapete vero che le rane sono infimi chi è che non lo sapete apriamo questa ultima prima vediamo quella reale perché questa qui è troppo bella rana dal dardo velenoso ho capito perché queste rane sono così tanto belli carine perché se nascono così significa che attirano gli uomini per fare delle foto e poi e poi questa rana lo spara addosso ecco perché sono così belle con questa testa palinosa attenzione fotografi di rane bellissime arrivano i dardi velenosi ragazzi e questa è l'intera collezione rana dal dardo velenoso a tre righe rana misteriosa dal dardo velenoso rana dal dardo velenoso che è speciale che cambia colore nell'acqua calda poi rana dal dardo velenoso a tre righe arancioni anche lei cambia colore nell'acqua calda poi rana arlecchino dal dardo velenoso questa è la rana pomodoro bellissima queste due sono le rane volanti di wallash sono in due versioni una che è speciale che si illumina il buio e l'altra che è speciale e trasparente poi c'è la raganella arborea da questo coso così dal mento dal mento con anzi dal mento mongolfiera ecco dal mento mongolfiera sto scherzando rana toro indiana poi rana scimmia delle foglie rana muschio rospo cornuto non è una parolaccia ma si chiama proprio così rana di vetro e poi abbiamo le due raganelle dagli occhi rossi che si trovano in due versioni questa qui lunghissima guardate 3,2,1 e poi aiuto e poi c'è quest'altra guardate ci sono le orbitz trasparenti dentro guardate ci sono le orbitz trasparenti dentro non si vogliono più staccare quindi si buttano tutte due insieme 3,2,1 dai 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 stanno cominciando a cambiare colore tutte questo ha cambiato colore questa va verde è diventata azzurra questa invece è acqua fredda mettiamola dentro eccole di nuovo eccola 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 ha cambiato colore nell'acqua fredda dall'acqua calda all'acqua fredda poi quest'altra subito guardate è diventata sia così arancione e sia più scura perchè prima era più chiara adesso mi rinfresco un po' le mani perchè prima quell'acqua era caldissima ragazzi spero tanto che queste rani epic animals mega rani vi siano piaciute mettete mi piace cecce se vi sono piaciute queste rani epic animals mega rani iscrivetevi al mio canale ciao ciao da Leonardo queste rani appiccicose che non si vogliono staccare perchè il bagno insieme si vogliono fare saluta ferrane ciao ci ciao 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 ciao